Siamo con l'assessore della Regione Campania alle Risorse Umane e al Lavoro, Sonia Palmeri. Assessore, i ragazzi di oggi sono molto scoraggiati, poco lavoro e mal retribuito. Nella sua forma istituzionale, cosa si sente di dire? Beh, i ragazzi non devono essere scoraggiati, anzi, devono avere la fiducia e la motivazione per completare la propria formazione professionale ed offrirsi invece ad un mercato che pian piano sta cambiando. Noi stiamo cercando di realizzare una rinascita della Campania e la stiamo ricostruendo pezzo dopo pezzo. Si parte dai trasporti, si passa attraverso l'ambiente, si arriva fino al turismo. Insomma, c'è bisogno di una rinascita territoriale e anche culturale e chiaramente anche turistica del territorio della Regione Campania. Sicuramente. Durante il convegno dove lei ha preso parte qui ad Aversa, che ha trattato tanto delle tematiche sul cambiamento e quindi anche sulle prospettive futuro, lei ha accennato il progetto Garanzia Giovani, che in questi anni è stato un po' un volano per l'occupabilità. Quali sono i dati e i risultati che si sono ottenuti? Sì, è stato un volano, la parola mi sembra adatta, perché noi riusciamo in questo modo, attraverso il programma di Garanzia Giovani, a fare entrare i giovani all'interno di aziende, di organizzazioni pubbliche e private. I dati sono questi. Abbiamo oltre 27.000 giovani che hanno realizzato un tirocinio formativo, abbiamo circa 12.300 nuove assunzioni con il programma Garanzia Giovani e abbiamo circa 9.000 giovani che stanno realizzando invece un proprio progetto formativo, quindi sono seduti tra i banchi a completare la propria preparazione professionale. Questo diventa fondamentale e tanti altri ancora nel servizio civile, ma tutti in ogni caso sono orientati, quindi dai 15 ai 29 anni, quindi fasce anche molto delicate, vengono finalmente fuori allo scoperto, proprio perché non sono inseriti in attività formative, in attività lavorative, si dichiarano ai centri per l'impiego e sono bisognosi e desiderosi di un aiuto e quindi se lo vanno a prendere finalmente. È vero l'aiuto e un sostegno ai giovani, perché è importante, ma per chi non ha più quell'età e quindi magari si parla di inoccupati over 40, quali sono i progetti per il futuro? Sì, la disoccupazione over 40 è sicuramente più preoccupante rispetto a quella giovanile, dove ancora il completamento della preparazione professionale può dare delle chance. Quando ci troviamo di fronte a una persona di 40 anni che magari nella vita ha iniziato a lavorare da giovane e quindi non ha conoscenze dei processi tecnologici che attualmente sono invece vigili e presenti all'interno delle aziende, è chiaro che questo crea grande problematicità ed è per questo che noi abbiamo questo piano, che è il piano per il lavoro, dove la Regione Campania ha stanziato oltre 200 milioni di euro proprio per venire incontro a questi processi di fuoriuscita dai processi produttivi, quindi persone che hanno ancora molto da dare all'interno di organizzazioni, all'interno di aziende che hanno soltanto voglia di un'opportunità. C'è garanzia over, c'è il programma ricollo e ci sono tante attività di riqualificazione e di reinserimento occupazionale. Quindi si può dichiarare che la Regione non si ferma e continua in modo attivo nel superato? Credo che la Regione era ferma prima. Dal 2015 invece, veramente in tutte le ore, stiamo cercando di creare un modello di sviluppo che combini, come dico io, competitività e coesione sociale, non dobbiamo lasciare nessuno dietro. Quindi lavoratori svantaggiati, lavoratori molto svantaggiati, disabili, donne, cioè sono tutti target che hanno bisogno di misure ad hoc, noi ci siamo. Assessore, la ringrazio, è stata estremamente esaustiva e saluto tutti.